E alle mie spalle ci sono i famosi dossi della discordia, ormai c'è chi ha ironizzato per i movimenti che la macchina è costretta a fare in momenti magari di disattenzione. Ora fortunatamente sono stati segnalati ma le polemiche non si placano perché se da un lato i residenti avevano chiesto interventi di questo tipo a causa di numerosi incidenti, ci sono altri residenti al quale questa scelta non piace, dicono che non riescono a dormire per i rumori appunto delle automobili che impattano sui dossi. Si vedrà come andrà a finire ma intanto questo è un altro argomento caldo, anzi bollente di questo inizio estate. C'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. La realizzazione dei dossi su Viale della Croce Rossa sta scatenando polemiche ma anche l'ironia sul web. La costruzione di questi dossi è stata voluta dal comune per rallentare la velocità degli automobili in una zona in cui ci sono stati negli anni tantissimi investimenti di pedoni. Qualche residente, anzi quasi tutti, hanno fatto un plauso all'iniziativa, ma non tutti, diciamo così. Una famiglia, la famiglia Vitillo, si è lamentata dicendo che sono giorni che a causa dei rumori provocati dalle auto che saltano sui dossi non si riesce a dormire e si dicono pronti anche a fare una manifestazione per far valere le loro ragioni. Ma intanto, gli aquilani, che sanno essere spiritosi come pochi, hanno accolto questa novità con l'ironia che li contraddistingue sempre, diffondendo sul web vignette e meme. Nei primissimi giorni, infatti, più distratti e senza le segnalazioni, hanno quasi rischiato di volare dentro allo stadio Fattori. I dossi sono in corrispondenza delle zone 30, zone nelle quali la velocità delle auto deve essere appunto di 30 km orari. Finalmente, dopo qualche giorno, sono stati anche segnalati e la ditta MD ha provveduto a creare l'opportuna segnaletica, che non è stata fatta prima, hanno fatto sapere, solo per far riposare l'asfalto e permettere la fuoriuscita del gas. Ad ogni modo, i dossi di viale della Croce Rossa sono diventati davvero la star del web, tra risate e polemiche che in città non mancano mai attorno a qualsiasi opera si vada a realizzare. Grazie a tutti.